Sei sicuro di avere il controllo della tua azienda? Oggi questa domanda ci perseguiterà e ci perseguiterà con un ospite d'eccezione, lo vogliamo chiamare così? Non è esattamente la cosa giusta da dire perché oggi è tornato a trovarci il fondatore di questo podcast, Marketing in Edilizia, che è Guido. Ciao Guido, bentornato, bentornato. Ciao Valer, ciao a tutti. Allora, io ho trascinato il suo Guido. E tutti mi inganno. Sì, ho trascinato un po' Guido, diciamo, l'ho preso dai suoi molteplici cose da fare perché voglio che ci parli di una cosa importante che è il controllo, ma lo vediamo dopo la sigla. Eccoci qui, siamo tornati. Ciao Guido. Ciao a tutti, ben trovati. Ben trovati, ben trovato a te. Guido, lo conoscete tutti, è il fondatore di questo podcast, Marketing in Edilizia. Oggi gli ho chiesto di intervenire perché stiamo parlando, soprattutto in questi mesi in cui sono successe moltissime cose, in cui l'onda lunga dei bonus si è finalmente ritirata, lasciandosi dietro una scia di problematiche non indifferenti da risolvere, e il problema che è sorto, tra i tanti problemi che sono sorti, c'è proprio quella del controllo reale dell'azienda. Cioè, in molti, parlando con molti titolari di aziende che operano in edilizia, è uscita la domanda sei davvero sicuro o sicura di avere il reale controllo della tua azienda? E la risposta non è banale, non è stata banale e molte volte i titolari con cui abbiamo parlato si sono ritrovati a capire che in realtà il reale controllo non ce l'avevano. In che senso non ce l'avevano? Nel senso, io comincio da questa citazione di Philip Kotler, che tra l'altro di cui ha già parlato più volte Guido nei suoi contenuti, nelle sue live, eccetera, eccetera. Non esistono aziende stabili, o si va avanti o si va indietro. Da qui, Guido, penso che possiamo cominciare a parlare di una definizione di crescita. E ti lascio la palla. In realtà io la farei... No, Kotler ovviamente è un guru del marketing, testi universitari, però è chiaro che rappresenta un po' quel marketing da cui tanti piccoli imprenditori scappano, fuggono. Perché? Perché fatto di quelle cose un pochino complesse, la farei a un livello ancora più basso. Che cos'è un'azienda? Un'azienda è un organismo vivente. Quindi, come tutti gli organismi viventi, ciò che non cresce purtroppo muore. È solo questione di tempo, no? L'essere umano, le cellule di cui è fatto il corpo dell'essere umano, se non crescono, se non si rinnovano, purtroppo è questione di tempo, ma ovviamente andranno verso la morte. E la stessa cosa accade anche all'azienda. Spesso gli imprenditori hanno la paura, il timore di crescere. Però non ci dimentichiamo che un'azienda che non cresce è un'azienda destinata a morire. È questione di tempo. Non è che se non cresco quest'anno, domani mattina, l'anno prossimo morirò. Ma in un periodo di tempo più o meno ragionevole, ovviamente tenderò a scomparire. Perché? Perché sul mercato non esisti. Quindi diventa di fondamentale importanza accettare, spesso, non so se magari l'hai visto qualche volta, su Facebook, ma comunque nei vecchi cartoni animati, il cane che aveva qualcosa davanti a sé che lo attirava e che ovviamente correva per raggiungere quella cosa, però in realtà se l'aveva legata su di esso e quindi di conseguenza manteneva sempre la stessa distanza. Quando facciamo impresa, dobbiamo accettare il fatto che dobbiamo correre, naturalmente dobbiamo correre, dobbiamo essere veloci nella direzione giusta per crescere. Perché? Perché se no vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa. Cioè se noi immaginiamo l'azienda, l'impresa come un qualcosa di statico, come un qualcosa che è fatto il mio, abbiamo sbagliato il lavoro. Quindi un'azienda deve per forza di cosa, per forza di cose, crescere. Che cosa vuol dire crescere? Vuol dire fatturare di più? Sì, anche, non solo però. Crescere può banalmente, potrebbe voler dire, guadagnare di più. Quindi a parità di ricavi, io mi metto più soldi in tasca. Crescere può anche voler dire avere più tempo libero. Perché? Perché se io faccio il mio lavoro all'interno dell'azienda affinché possa liberarmi del tempo, ho bisogno di persone. Quindi dovrò inserire delle persone. Anche quella è crescita. Ovviamente queste persone andranno remunerate. Quindi comunque tutto è riconducibile al fatto che io devo ingrandire quello che faccio. Perché? Perché se non ingrandisco quello che faccio, con il tempo, un po' come quando un terreno è bagnato, dopo un po', ovviamente tenderà a essiccarsi. E quindi non va bene. Se il terreno è essiccato, la vegetazione non può crescere, non può andare avanti. Quindi è fondamentale. È chiaro che quando parliamo di crescita, perché sono stupidi gli imprenditori che non la vedono in questo modo? No, assolutamente. Perché crescere spesso impone cambiare. E il cambiamento purtroppo nella vita delle persone fa paura. Tutto ciò che è novità, tutto ciò che impone il fatto che io debba cambiare delle abitudini, mi fa paura. E spesso quando parliamo di crescita aziendale si associa la crescita al fatto che avrò meno tempo libero, dovrò, non potrò più dedicarmi a quello che mi piace fare, avrò più problemi da gestire, da risolvere. In realtà, ragazzi, il modo migliore per togliersi da tutti quei problemi sciocchi, banali, semplici, è costruire azienda. Perché? Perché se io sono l'unico stronzo, si possono dire le parolacce? Assolutamente. Io sono l'unico stronzo in azienda e devo fare tutto io. E quando mi chiama qualcuno che ha un problema, e lo devo risolvere io. Se io ho delle persone, sicuramente continuerò a risolvere problemi, ma risolverò problemi che sono più grandi, che non è quindi la signora che mi chiama che ha quel problema in casa. Risolverò problemi più grandi. Quindi il modo, l'unico modo che io ho per togliermi dall'operatività e per togliermi tutte quelle rotture di scatole è proprio quella di avere una struttura in grado di gestire al mio posto. Quindi cresco, certo, ma non è detto che crescendo debba sacrificare quello che è la mia vita. Sicuramente ci sarà, perché dobbiamo dire quasi come sta, no, sicuramente ci sono, anch'io ho dei periodi in cui lavoro di più e dei periodi in cui lavoro meno da un punto di vista quantitativo. Ma è normale, è giusto che sia così. L'importante è che non diventi la normalità. Ricordiamoci che essere, fare l'imprenditore vuol dire essere disposti a vivere alcuni anni della propria vita in condizioni in cui nessuno mai farebbe per poter vivere altri anni della propria vita con uno stile di vita che tanti non possono permettersi. Ma la parola, il concetto chiave è alcuni anni, un anno, due anni, tre anni, cinque anni, già inizia a puzzare, dieci anni, già inizia a puzzare, quindici anni che non riesco a prendere lo stipendio. Non va bene, c'è un problema. Assolutamente, assolutamente. E ora, appunto, come dire, noi abbiamo lanciato diversi campanelli d'allarme, no? Cioè già, diciamo, in questi primi sette, otto minuti abbiamo lanciato dei campanelli d'allarme sicuramente a chi ci ascolta, soprattutto questo discorso sulla tempistica è importantissimo, questo che hai fatto. Perché dà proprio un oggettivo dato in mano ai titolari, in mano agli imprenditori per parametrizzare, diciamo, quello che stanno facendo. Adesso, ovviamente, quello che noi cerchiamo di portare all'attenzione degli imprenditori con cui tu lavori in consulenza, no? È il fatto che la crescita è strettamente legata al controllo aziendale. Il controllo è fondamentale della crescita. E spesso e volentieri, da dove esce fuori questo problema? Dal fatto che molto spesso le aziende ci raccontano di aver intrapreso delle azioni senza aver portato a casa alcun risultato e tutto questo molto spesso scava e scava esce che viene fuori da una mancanza di controllo. Quindi c'è una, come dire, una stretta correlazione tra il controllo e il poter raggiungere dei risultati concreti, no? Assolutamente c'è. Questi giorni stiamo lavorando al workshop il codice della crescita in edilizia e il primo appuntamento, le prime slide sono proprio state su questo concetto. Crescere vuol dire avere il controllo. Tanti imprenditori, anche in questo periodo, comunque nei mesi addietro, si sono trovati di fronte all'ammissione del fatto che fossero arrivati a un certo punto non per volontà loro. Quando tu cresci senza controllo, quindi quando cresci perché è il mercato che ti sta fascinando, che ti sta trainando, succede questo. Cioè tu non sei consapevole della crescita e quindi, poiché è un evento che non è frutto o figlio di un processo, ma è casuale, questo determina il fatto che l'imprenditore dica no, no, io non devo crescere perché aumentano i costi, devo ridurre i costi. Cazzo, ma non esiste qualcosa che in... Cioè, la quercia, no? Quando germoglia, non è che dice ah, arrivo a tre metri e poi mi fermo. Non esiste in natura. Cioè non esiste in natura qualcosa che dice no, no, ma io arrivo lì e mi fermo. Se non cresci, muori. E devi crescere fin tanto che puoi farlo. Come puoi fare tutto questo senza avere il timore, la paura? Avendo il controllo. Che cosa vuol dire avendo il controllo? Cazzo, sport, qualsiasi sport di precisione ci insegna questa cosa. Tiro al volo, io ho il controllo dell'arma che ho tra le mie mani, perché? Perché miro, boom, fuoco, prendo il bersaglio. Voglio farla ancora più semplice, biliardo. Cazzo, il biliardo è uno dei sport bellissimi, ma perché? Perché ti dimostra che tu hai il controllo. Pattinare è la stessa cosa. Sciare è la stessa cosa. No, se tu guardi una persona che non sa pattinare, una persona che non sa sciare, giustamente che cosa si chiede? Ma come fa quella persona ad avere il controllo degli sci, dei pattini? Ecco, quello è ciò che ci spaventa. Ma se io ho il controllo, se io imparo gradualmente, se io faccio step by step tutto quello che devo fare, arrivo a saper pattinare, a saper giocare a biliardo, a saper tirare al volo, a saper fare tutto quello che c'è da fare e non ho paura. Perché il concetto di base è questo. L'imprenditore ha paura di crescere perché non ha il controllo. Quindi che succede? Che si fanno delle azioni, si fanno delle attività, non avendone il controllo, alcune funzionano, altre no, e si mette in discussione la crescita di un'azienda. Ma è paradossale, cioè è da stupidi ragionare in questo modo. Ecco perché noi insistiamo tanto sul fatto che la crescita è il frutto del lavoro su più aree aziendali. Perché? Perché tutto ciò che dice ah io faccio marketing e cresco è effimero, lascia il tempo che trova. Se invece la crescita è su tutte le aree aziendali e io ho un modello di business che sia sostenibile, ho un controllo di gestione che mi garantisce liquidità perché crescere costa. Ok? Ho sistemi di marketing, ho processi di vendita, ho persone che lavorano dove io non devo stargli necessariamente con il fiato sul collo, io cresco, cresco in modo graduale. Perché no? Tutti quanti noi vogliamo la crescita esponenziale da un giorno all'altro. E che è quello che è successo in edilizia con i bonus. Non è che le aziende sono cresciute perché gli imprenditori si sono diventati tutta una volta illuminati. No. Semplicemente perché era un fiume in pieno e tutti quanti si sono buttati. Poi per carità, gli imprenditori illuminati l'hanno saputo gestire, gli imprenditori non illuminati e non all'altezza non l'hanno saputo gestire. Ma di fatto non conosco nessuna azienda che non sia cresciuta in questi anni. E se non è cresciuta vuol dire che ci sono dei problemi ancora più importanti a monte da risolvere. Ma cresco perché è il mercato che mi fa crescere. Non perché io abbia fatto delle cose. Pensiamo a noi. Noi se siamo riusciti a tenere botta e a crescere in anni in cui nel nostro settore i clienti letteralmente cascavano addosso ai nostri clienti non avevano tempo per seguire nulla perché dovevano andare avanti. Quella è crescita controllata. Non è che adesso cresci perché... No. Quella è crescita controllata. Perché? Perché per anni abbiamo fatto delle azioni che hanno portato dei risultati. Quella è crescita controllata. Faccio qualcosa per ottenere un risultato. Non sempre ci riesco ma ci mancherebbe altro. Però di certo se non sbaglio otto volte difficilmente quelle due volte riesco a fare qualcosa che mi fa crescere. Questo è quello che possiamo accettare. Devo sbagliare più volte per ottenere ciò che mi fa crescere. E questo è il lavoro dell'imprenditore. Poi è chiaro che se vogliamo raccontarcelo che nel mondo ideale io devo fare imprenditore seriale che non sbaglia mai sono stronzate ragazzi eh. Ma il prezzo da pagare per ottenere risultati e per far crescere la propria azienda è sbagliare. so che magari qualcuno si aspetta il discorso motivazionale ma io non ragiono così. Non mi appartiene quel modo di ragionare. Sì infatti peraltro se chi ci sta ascoltando conosce Guido sa che quello che sta dicendo lo ripete da sempre non è una cosa che è uscita oggi e soprattutto comunque viene fuori dall'esperienza. Io volevo un attimo Guido sottolineare questi due aspetti che hai di cui hai parlato tu e cioè che le scorciatoie e le soluzioni temporanee non funzionano e non funziona lavorare sulla singola sul singolo elemento su una singola cosa cioè lavorare concentrarsi su una singola cosa molto spesso tra l'altro questo approccio viene fuori dal fatto che un imprenditore magari è più portato è più bravo a occuparsi di una singola area della sua azienda piuttosto che di tutte le altre e questo ovviamente è vero che da una parte segue la sua inclinazione naturale o magari anche quello in cui si è raffinato meglio però dall'altra parte lo espone a un pericolo gigantesco perché appunto se cade quel singolo elemento c'è il il pericolo che cade all'intera azienda questo significa da una parte appunto come hai detto tu che bisogna sempre ricordarsi che l'azienda è un insieme di sistemi e che quindi la crescita deve essere sistemica in questo senso cioè tutte le aree aziendali devono crescere allo stesso modo e il più contemporaneamente possibile dall'altra parte questo ci fa capire quanto sia pericoloso pericolosissimo per un'azienda a navigare a vista no? alla fine il discorso torna è un pochino un pochino questo e ti volevo chiedere a questo punto ci sono delle strategie suggerimenti che possiamo dare subito in questo podcast in questa puntata per prendere il controllo dell'azienda non so vogliamo è possibile fare un focus su dei numeri delle metriche importanti da tenere sott'occhio di cui prendersi cura subito immediatamente adesso finita questa puntata ci sono delle cose che possiamo dire a chi ci ascolta? di fatto la cosa più semplice che si può fare in questo momento esatto in cui stanno ascoltando il podcast è aprire l'app della propria internet banking e vedere quanti soldi si hanno sul conto corrente i soldi sul conto corrente sono sempre la pagella dell'imprenditore poi per carità è chiaro che dobbiamo vedere quanti di quei soldi sono realmente dell'imprenditore e quanti magari sono frutto di un prestito piuttosto che di finanziamenti che si ricevono da parte dei clienti perché non ci dimentichiamo che gli appunti sono debiti verso i clienti ok? quindi la prima cosa dice ok ma sono soddisfatto di quella cifra che leggo sul mio home internet banking perché quella è la primissima cosa se non sono soddisfatto vuol dire che devo cambiare qualcosa è un po' come quando non so mi vado a pesare mi vedo che non sto bene con me stesso mi vado a pesare ricevo la conferma devo cambiare qualcosa poi posto che un'azienda è fatta di persone posto che un'azienda è fatta di più reparti devo capire cosa sta producendo ricchezza e cosa invece sta assorbendo ricchezza perché? perché ovviamente è così che funziona no? ogni azienda ha degli asset gli asset che cosa sono? sono strumenti persone che io devo trasformare inutile se non le trasformo inutile diventano inutili che cosa vuol dire? vuol dire che io pago una persona ma quella persona non mi sta rendendo per l'azienda quindi devo capire ma posto che l'azienda è il mio contenitore in questo contenitore che cosa c'è? e come sto sfruttando tutto quello che c'è? perché se noi parlassimo con imprenditori o con persone che domani mattina vanno ad aprire la propria attività lo potremmo dire ok decidiamo noi cosa mettere nel contenitore ma già che poiché questo contenitore già c'è io devo capire ma un po' come quando lo zainetto di mia figlia butta dentro cose poi voglio giocare ok apro lo zainetto e vedo che cosa c'ho dentro posso giocare con quello che trovo all'interno dello zainetto è chiaro che come imprenditori che cosa possiamo fare? nello zainetto nel contenitore ci saranno degli asset devo capire ok ma questo questa persona la sto sfruttando nel migliore dei modi mi sta realmente producendo ricchezza? questo macchinario questo furgone questo showroom questa sede questa azienda questo caffanone lo sto sfruttando davvero nel migliore dei modi? perché? perché è da lì che devo partire poi è chiaro che devo definire tutto quello che faccio in azienda perché? perché ti garantisco che il miglior cliente storicamente statisticamente è sempre quello che fa guadagnare meno l'azienda ok? il cantiere più grande storicamente è quello che fa guadagnare sempre di meno l'azienda il prodotto più caro è storicamente statisticamente sempre quello che fa guadagnare di meno l'azienda quindi devo capire ma posto che l'azienda è una somma di sistemi quali di questi sistemi stanno producendo ricchezza e quali di questi sistemi stanno bruciando ricchezza? e lo stesso discorso lo devo fare su di me ma di quello che faccio cosa produce ricchezza e cosa invece brucia ricchezza se io riesco a massimizzare quelle attività che mi generano che mi producono ricchezza io sto bene il problema però qual è? che magari ho anche un'azienda che fa utile ma magari faccio ristrutturazioni e nuove costruzioni dico delle cose a caso faccio un utile di 100.000 ma quell'utile di 100.000 è frutto di 200.000 di utile sulle nuove costruzioni e 100.000 di perdite sulle ristrutturazioni sto dicendo delle cose a caso ma perché io devo impegnare la mia azienda per smenarci dei soldi e per togliermi i soldi dalla tasca? quindi la prima cosa che posso fare è analizzare i numeri guardare i numeri e dire ok sono soddisfatto di quello che sto facendo da un punto di vista finanziario quindi cassa da un punto di vista economico cioè ad oggi visto che siamo a inizio luglio ma rispetto al primo semestre ho fatto margine ho fatto utile o sto facendo girare solo soldi perché questa è l'analisi che bisogna fare e questo è l'elemento che ci dice se lo faccio tutti i mesi ok ho lavorato bene devo correggere queste cose ma questo è il lavoro dell'imprenditore fin tanto che io sto oberato fin tanto che io sto in trincea ma dove mai troverò il tempo per fare tutto questo ecco a proposito di questo prendo proprio la palla al balzo sull'importanza non solo di riorganizzarsi e sapersi staccare dall'operatività ma anche dell'importanza di riuscire a capire a comprendere quanto puoi fare da te e quanto invece ti è utile ammettere di aver bisogno di una consulenza di una collaborazione perché sicuramente ci sono dei vantaggi del lavorare con esperti rispetto a fare tutto da soli che in questo momento viene ancora colto troppo troppo poco Guido tu lo dici per esperienza perché tu stesso è normale prendiamo il caso dell'agenzia di marketing no? marketing al minimo spesso eh no ma voi siete cari ma perché? perché l'imprenditore purtroppo non valorizza il suo tempo quindi se da una parte io ho un'agenzia che mi chiede mille ma comporta un'ora due ore tre ore del mio tempo ok? dall'altra parte ho un'agenzia che mi chiede cinquecento quindi la metà ma comporta dieci ore del mio tempo se poco poco valorizzassi il mio tempo capirei che ci guadagno molto di più prendendo quella mille e quindi attenzione che vi parla il figlio di un artigiano che quando c'erano problemi o mancava qualcosa si metteva in macchina andava lui a comprare quello che mancava perché? perché non si valorizza il proprio tempo e si pensa che valga più il tempo di un collaboratore rispetto al tempo dell'imprenditore no non è così che funziona funziona così nella misura in cui io non sto facendo l'imprenditore ma sto facendo il dipendente dei miei dipendenti ma non va bene quindi quindi perché avere delle persone che ti aiutano ad andare più veloce perché i soldi chiamano la velocità perché nella vita tutto torna solo una cosa non tornerà ed è il tempo quindi quanto vale per me anticipare i risultati di un anno? cazzo tantissimo cioè quanto può valere per me guadagnare un anno di tempo rispetto alla mia tabella di marcia o rispetto ai miei concorrenti? tantissimo guardate che l'unica cosa che non tornerà più indietro è il tempo i soldi vanno e vengono e se i soldi per un'azienda sono un problema vuol dire che c'è un problema di fondo ancora più grande c'è un problema di modello di business perché? perché se io non posso permettermi di spendere qualcosa in più pur di avere un servizio del genere evidentemente è un problema di sostenibilità quindi c'è un problema di modello di business quindi quello che sto facendo non sta in piedi o sta in piedi perché io non mi pago o perché non pago lo stabile o perché non pago i collaboratori ma non è così che funziona deve stare in piedi con quelli che sono i valori di mercato non perché io mi sottopago e quindi l'azienda sta in piedi è un po' come il tizio che c'ha il ristorante dove lui cucina la moglie la moglie serve e fa e batte e batte e batte la cassa lo stabile magari è di famiglia l'ha ereditato fa un po' di nero ma è quello e fa l'azienda se poi è quello e fa l'azienda oh ragazzi vuol dire che abbiamo delle visioni completamente diverse ma non è quello fare azienda fare azienda è produrre ricchezza innanzitutto per l'imprenditore come giusto che sia per tutte le persone che stanno intorno all'imprenditore e mano a mano per tutti quanti gli altri fino ad arrivare a produrre ricchezza per la società perché perché cazzo se c'è miseria ma che dobbiamo dividerci miseria la ricchezza si può dividere se c'è se non c'è ricchezza c'è poco da dividere e questa cosa noi da quando vivo in Svizzera in Svizzera lo dicono apertamente l'imprenditore deve guadagnare perché perché se l'imprenditore guadagna tutti quelli che stanno intorno all'imprenditore stanno bene provalo a dire in Italia e ti accusano di ogni però questo è il concetto di base devi guadagnare tanto perché perché se ci sono i soldi in cassa tutto è fattibile tutto è risolvibile con la pancia piena qualsiasi problema si affronta meglio innegabile questa cosa assolutamente ok Guido io ti devo fermare perché se no tu vai avanti per giorni e giorni giorni io invece ti devo fermare perché il tempo a nostra disposizione per questa puntata è finito io vi consiglio di rimetterla da capo questa puntata e riascoltarla magari se avete un blocco notes a disposizione prendete appunti vi segnate le cose ci pensate ve le sognate la notte e poi finalmente le mettete in pratica un altro consiglio che vi do è non fatelo da soli da dove potete cominciare abbiamo un bellissimo gruppo facebook che si chiama Imprenditori Adili siamo quasi 3.000 Guido mi supporti in questo siamo quasi 3.000 ci sono quasi 3.000 imprenditori Adili che tutti i giorni si confrontano scrivono leggono i nostri consigli quello che sperimentiamo quello che proviamo le tecniche i risultati c'è un bellissimo fermento quindi l'altro consiglio se non siete ancora iscritti è iscrivetevi a Imprenditori Adili perché da lì passa tutto tutto quello che noi proviamo che impariamo e che facciamo con i nostri con i nostri clienti un'altra cosa che vi chiedo prima di chiudere è se volete che affrontiamo un argomento in particolare che vi sta a cuore che volete che volete insomma che noi affrontiamo di cui parliamo scriveteci potete scriverci appunto nei commenti sotto se ci seguite su Youtube oppure scriverci andate su www.marketingalmilemitro.it o su www.guidalberti.it lì ci sono i nostri contatti noi rispondiamo sempre non mandiamo mail mai a cui non si possa rispondere assolutamente quindi i canali di comunicazione sono tutti 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 aperti io Guido ti ringrazio per essere stato qui con me non ti mollo per le prossime puntate vi do appuntamento alla prossima ciao a tutti ciao Ciao!